Incredibile su questo match, mentre Golovar cerca ancora la tripla, la tocca Lorenzo Gordo ma non riesce a farla sua. Vedete come corre la squadra di Mazzoni, in angolo la tripla, la imbuca Kiki Clark e attenzione, men che non si dica. Ranunzi, Ranunzi punta il canestro, stoppunissimo da parte di Silvere Brian che lo rispedisce al mittente in maniera perentoria. Tiro da tre di Kiki Clark e Kiki Clark ci rimette di nuovo la firma per il meno dubbio. Tutti da situazione di contropiede di transizione. Ecco Alvin Young, c'è il blocco di Di Giulio Maria, linea di fondo, scarico per Clark, tripla anche di Clark e obiettivamente neanche lui si tira indietro. Pronto il pick and roll con Brian, si sceglie Slay, c'è l'aiuto che non è efficace di Lorenzo Gordo e Clark mette questo canestro. Adesso spalla il canestro, si mette Slay, si va invece da Clark, ancora possibilità di pick and roll, poi si allontana Brian Clark, spara la tripla, mamma mia, mamma mia, parità. In questo momento Folli sta ritornando pienamente in partita, servono ancora delle difese però come quelle viste in precedenza. Young, linea di fondo, Meini, Clark, la tripla di Clark e lui non perdona. Il quarto fallo di Stefano Borsato, un minuto e nove secondi adesso per le residue speranze dei padroni di casa, segna Clark. Per cento dei liberi, oggi sicuramente rimane inficiato la propria percentuale. Grazie.